Da sempre è sulla montagna che vai a cercare il divino. Magari non proprio Dio, ma il divino. E gli antichi credevano che in alto vivessero gli El e forse magari c'erano anche degli esseri particolari che vivevano lì, ma magari non erano proprio divinità, erano delle creature a loro volta, no? Mi viene in mente Perda Eliana in Sardegna, quella zona bellissima, quella pietra in cima alla montagna, che dà un'idea di incredibile spiritualità forte che senti quando arrivi lassù, la senti proprio, poi chiaramente domina tutto il territorio. Qui invece siamo fra varie montagne, si sente un po' meno, ma l'elevazione è quella che ti fa pensare a tutto ciò che siamo noi, piccoli, umani, piccoli umani che vivono in piccole casupole, insomma fragili, deboli, e quindi è normale per chiunque saga in montagna non pensare al divino, alla divinità, uno può essere ateo quanto gli pare, ma quando sale in montagna si riallaccia con qualcosa di spirituale che sente profondamente, anche se non crede, non importa credere, l'importante è sentirlo, ecco, perché credere vuol dire fare una costruzione, fare una scommessa, sentirlo è diverso, cioè te lo senti che c'è qualcosa, che un'energia incredibile, un pensiero che crea la materia, una coscienza che credi di essere calata dentro un avatar, un corpo, dentro un luogo, un pianeta, dentro un cosmo che ti circonda, ma tu senti che non sei, sei parte del cosmo, ma allo stesso tempo sei quello che porta il cosmo ad essere esistente. Questa è una cosa che molti non accettano, ma, come sapete, il meccanico antistica è l'osservatore, è quello che poi fa venire il collasso a funzione d'onda. E mi fermo subito dicendo che, certo, può essere anche uno strumento, un rilevatore, ma questo non significa nulla, perché il rilevatore comunque è guidato da qualcuno e ce l'ha messo. Quindi è come se tutta la realtà che noi vediamo funziona perfettamente soltanto se c'è qualcuno che la osserva. E se qualcuno la osserva funziona in maniera diversa. È come se vivessimo una specie di incredibile finzione, alcuni dicono una matrix, che appare soltanto quando noi ci muoviamo. Come i videogiochi di una volta, io non so se ve li ricordate, andavate avanti, no, nello spazio, e siccome erano lenti, insomma, per risparmiare memoria, si formava lo spazio e via via che andavate avanti, no? Quindi si formavano le montagne all'inizio, non è che erano sgranate, proprio non c'erano, poi apparivano improvvisamente e vi trovavate in un altro scenario. È un po' così. La nostra realtà è più alleatoria di quanto crediate. La materia è molto meno vera di quanto voi possiate immaginare. E purtroppo oggi è chiaro che il materialismo, la convenienza economica porta a dire no, no, esiste solo la materia. Invece è proprio il contrario. Esiste tutto tranne la materia. Prima di tutto esiste la coscienza. E non è il delirio solipsista di una persona che dice esiste solo la mia coscienza e voi siete delle interazioni della mia coscienza e quindi voi non esistete. È un delirio. Non ha senso pensare al solipsismo come qualcosa di reale. Perché semplicemente lo vediamo, che interagiamo fra noi e siamo alla pari. Cioè io incontro un'altra persona, coscienza incontra coscienza e abbiamo questa... ci tocchiamo, no? Ci tocchiamo e quindi le coscienze si avvicinano e c'è una interazione. Quindi cambiamo la realtà in due. Magari se fossi da solo in un universo potresti cambiare la realtà, come vi dicevo in un altro video. Se invece ci sono tante persone, le interazioni sono talmente tante che non hai una minima possibilità di cambiare la realtà. Questo non significa che te non sei parte della grande coscienza universale. Vorresti esserlo. Anch'io potrei essere. Anch'io lo penso. Lo sento. Però non significa che te sei così forte da cambiare la realtà e quelle bischerate, bischerate, che vi vogliono vendere, la legge d'attrazione. E anche la sincronicità va approfondita perché è una cosa spiegata male. La sincronicità di Jung ha senso. Però in gran parte, a mio parere, è qualcosa che ci costruiamo noi col pensiero e facciamo caso, no? Avete visto quando fai caso a qualcosa? Allora te, pensa a un'auto di un colore strano, rossa, non ce ne sono tante. Se te pensi all'auto rossa, andrai in giro e continuerai a vedere auto rossa a tutte le parti, anche se ce ne sono una bassa percentuale. Oppure un modello specifico. Ti fissi su quel modello e vedi quel modello lì, capite? Ecco, quella è la fregatura. Se ti concentri su una cosa, vedi le sincronicità che non ci sono. Però questo non significa che la sincronicità non esista. Questo significa soltanto che gran parte delle sincronicità che attribuiamo sono costruite da noi e da nostra potente mente. Guardate, là c'è il criminale che poi va alla Garfagnana. Io sono di fronte alla Betone, quindi la Betone rimane qua. Qua le regine a Betone, Garfagnana dietro. Qua Doganaccia, Corno alle scale. E di qua Emilia Romagna, soprattutto provincia di Modena. Quindi la bellezza di questa zona è incredibile. Non può non portarmi a fare questi pensieri che interessano. Ma è chiaro che interessano, perché tutti noi abbiamo queste sensazioni. Solo che nessuno ne parla, allora vi vergognate a parlarne. Con me ne potete parlare, potete commentare. Mentre se andate al bar e parlate di coscienza, vi ridono dietro, perché sono materialisti. Loro leggono quello che c'è sul giornale. Quando ci sono ancora i giornali, non ci sono manco più quelli. Che c'è là? Vedo una sfera microscopica. No, non vi preoccupate, tranquilli. Credo sia un aereo visto da sotto. Io la vedo, però non rimane l'immagine. È lì, ma non si vede. Va bene. Ti sta avvicinando, vedete? Temo un aereo che ha decollato. Tra poco lo vedremo, che salirà. Ovviamente là ci deve essere l'aeroporto di Firenze. Può darsi, eh? A occhio, sì. E alla luce del sole l'aereo che vedo. Però è lentissimo perché è lontanissimo. Fa tipo 800 all'ora, ma è lontanissimo. Io voglio darvi solo una notizia oggi. Divi una cosa molto semplice. Che la coscienza esiste. Non è che io sono sicuro al 100%, lo sento. Come dice, ma sei sicuro? No, lo sento. Però lo sento, non è poco, eh? E la coscienza è qualcosa che trascende lo spazio e il tempo. Quindi probabilmente noi quando siamo nati, eh? Quando prima di essere. Perché nessuno si chiede mai cosa c'era prima di essere. Tutti dicono, ah, dopo la morte che succederà? Ma ti sei mai chiesto cosa succede prima? Prima di morire? Prima di nascere? Prima di nascere? Dove cavolo eri, eh? Dove eri prima di nascere? Purtroppo nessuno se lo chiede mai. È una cosa incredibile. In realtà, probabilmente, la risposta potremmo trovarla nei nostri ricordi rimossi. Però non credo nemmeno tanto in queste cose che fanno regressive. Come le chiamano? Ipnosi regressive. Lasciate perdere. Andate solo a sfrucolare. Secondo me, eh? Non le fate. Andate solo a sfrucolare guai passati che poi avete ancora su groppone. Quelli che chiamano karma. Quindi lasciate perdere. Vivete la vita. Se c'è l'oblio ci sarà un motivo. C'è l'oblio, ok? Vivete questa vita come questa opportunità. Fate quello che nella vostra vita vi piace. Però sappiate che la vita è qualcosa che non inizia e finisce. Se le persone che vogliono vivere per sempre sulla Terra riprogrammeranno le cellule e diventeranno immortali. Immortali vogliono diventare. Voi lasciate perdere. Io in 2080 ero l'unico che, insieme ai miei amici, non voleva riprogrammare. Voleva viversi la vita appieno. E poi quando finiva, finiva. Perché comunque credevo nell'immortalità dell'anima. Cosa che ormai in futuro pochissimi crederanno. Sebbene magari si inizierà a vedere dal punto di vista di alcune intuizioni fisiche che forse forse non è proprio una cosa campata in aria. Già il fenomeno coscienza come si forma il cervello è qualcosa che stiamo iniziando un pochettino a indagare. Ma noi non dobbiamo fidarsi delle future scoperte. Dobbiamo sentire. Sentire quello che è la nostra missione qua. La nostra missione qua è non solo godere la bellezza dell'universo. Ma anche scoprire, ricercare tutti i giorni qualcosa di nuovo. Fare un'esperienza. Che non può essere una routine. Altrimenti ci spegniamo. Vediamo, no? Dobbiamo prenderci il nostro tempo e ogni giorno però mettere un pezzettino di esperienza. E imparare, migliorare, elevarci spiritualmente, possibilmente. E crescere come esseri umani. È difficile. Il percorso è difficile, pieno di ostacoli. Poi magari fai delle bischerate. Quindi devi iniziare da capo. Torni indietro. Quando sei lì che devi fare una salita sassosa. Scivoli giù e devi ripartire. Scivoli giù e devi ripartire. Non rimani in vetta. E lo so, è così. Però piano piano ci sta che ce la fai in vetta. E la soddisfazione sarà enorme per quanto è stato difficile. Più difficile è e più la soddisfazione sarà enorme. Quindi se la coscienza è davvero immortale, magari non riusciremo subito ad arrivare in vetta. Però intanto abbiamo raggiunto delle vette. Non montane ma di consapevolezza. Arrivederci. Iscriviti al canale YouTube Chiocciola l'eremita. È gratis. E attiva la campanellina per non perdere nessun video. Grazie.